Un'ulteriore arma per combattere e sconfiggere illegalità e criminalità organizzata è infatti diventato operativo un protocollo regionale per l'utilizzo delle banche dati ambientali e il registro imprese del sistema camerale. Si tratta di un accordo tra procure e camera di commercio che va così ad aggiungersi a quello del 2014. Abbiamo ormai consolidato un rapporto negli anni per l'accesso diretto da parte delle forze dell'ordine della Polizia Giudiziaria ai nostri archivi, quindi alla nostra banca dati che oggi diventa ancora più interessante ovviamente riguardando il mondo dei rifiuti e di quelli che sono i registri anche per lo smaltimento dei rifiuti. Quindi un accesso diretto anche verso la possibilità di conoscere tutto quello che può riguardare anche eventuali infiltrazioni, eventuali anche rapporti diciamo che possono essere attenzionabili appunto tra la criminalità e il mondo dell'impresa. Si tratta del primo esempio in Italia di una collaborazione così ampia tra il sistema delle imprese e quello della giustizia per favorire la legalità, agevolare controlli efficaci e non invasivi. Credo che sia importante anche per il tessuto imprenditoriale della provincia e delle province che la Camera di Commercio rappresenta perché credo che in questi momenti poi di difficoltà questo protocollo di legalità sostanzialmente è un aiuto all'impresa sana, all'impresa che osserva le regole contro la concorrenza sleale di quelle poche imprese che invece si avvantaggiano o si vorrebbero avvantaggiare della mancata osservanza delle regole. Per rafforzare i controlli il personale di polizia giudiziaria che opera nelle procure verrà anche dotato di un'app per smartphone. Con la quale fotografando la targa di un veicolo adibito al trasporto dei rifiuti si potrà risalire alla azienda titolare e quindi verificare se è regolarmente scritta l'albo gestori, se è una operatività corretta o meno. Quindi mettiamo in sinergia il nostro grande patrimonio di banche dati anche ai fini proprio della legalità e legittimità dell'agire imprenditoriale.